Musica Ben ritrovati con una nuova puntata La nuova puntata del calcio giovanile.com Quattordicesima giornata di gara in archivio Oggi con noi abbiamo due graditissimi ospiti Abbiamo il tecnico dei giovanissimi regionali del terzo tempo Totolo Giudice e il presidente Fortunato Ciruffo Con loro parleremo di questa nuova realtà del terzo tempo Che si sta affermando anche a livello regionale Ma iniziamo parlando degli allievi regionali girone A Garibaldina Dattilo Noir rinviata Alba Alcamo Vis Palermo 2 a 2 Renzolo Piccolo Cantera Ribolla 1 a 0 Panormus Villabate 1 a 1 Cei Punto Rosa 2 a 0 Rinviata la sfida tra Accademia Trapani e Monreale Per una classifica che vede in testa la Cantera Ribolla con 32 punti Segue da Renzolo Piccolo con 28 27 punti per la Panormus 25 per il Villabate 21 per il Monreale 19 punti per Cei e Alba Alcamo 14 punti per la Garibaldina 13 punti per Accademia Trapani e Vis Palermo 8 punti per il Punto Rosa Chiude la classifica con 4 punti il Dattilo Noir Mister Lo Giudice Questo girone di allievi Diciamo che tra i due del Palermitano È il più equilibrato Nell'altro c'è il calcio sicilia che domina In questo tra Cantera Ribolla e Panormus Forse la sorpresa Ma forse non è giusto definirla tale È la Renzolo Piccolo Sì sono tre ottime società Hanno dimostrato in questo inizio di campionato di meritare le posizioni che hanno Ci sono state anche belle sfide tra cui ho visto un pezzo di Ribolla a Panormus È stata una grande partita Se la giocheranno secondo me fino alla fine Ed è proprio l'episodio che andrà a determinare secondo me la vincente del campionato Anche se forse il Ribolla Qualcosina in termini di qualità in più rispetto alle altre Presidente I giovanissimi stanno facendo tanto bene a livello regionale Magari il prossimo passo è portare i campionati regionali anche agli allievi Assolutamente sì È uno dei nostri obiettivi Avere la possibilità oltre ai giovanissimi A giocare questo tipo di campionato Il campionato degli allievi regionali Ci tenteremo via campo Abbiamo una buona posizione di classifica Per quanto riguarda gli allievi regionali fascia B Fino alla fine tenteremo di arrivare primi Anche se nel nostro girone ci sono due squadre Una è la Virtus Bageria e una il Favara che ci stanno davanti Anche con merito Però non pensiamo certamente di mollare E fino alla fine cercheremo di arrivare primi Diciamo che comunque per il terzo tempo Questa stagione si sta rivelando abbastanza positiva Lo possiamo dire Assolutamente sì Noi come ho detto in precedente occasione Siamo alla prima esperienza Siamo notevolmente soddisfatti del lavoro Fin qui svolto da mister Lo Giudice Per quanto riguarda i giovanissimi regionali I ragazzi devo dire si stanno ben comportando Nonostante essere un primo approccio a questo tipo di realtà E adesso andiamo ad ascoltare i primi contributi di questa puntata Sentiremo mister Cintura della Panormus Santino Nuccio responsabile tecnico del Monreale E le parole di mister Sala della Vis Palermo È stata una bella partita devo dire Da ambo le parti Ben giocata su tutti i punti di vista Non è mancato l'agonismo Però è stato un agonismo bello da vedere Squadra è ben messa in campo Un pareggio che per le occasioni magari ci può stare stretto Ma che comunque poi alla fine ci può stare Contro una squadra devo dire Che dei risultati che ha fatto nell'ultimo periodo Potrebbe essere in questo momento una delle più in forma Io dei risultati che mi aspetto Mi aspetto sempre la vittoria Avendo sempre molto rispetto di quello che è l'avversario A di là della posizione che riveste in classifica Però ti ripeto È un risultato che ci sta Come poteva aspettarmi anche la sconfitta Del ribolla perché l'avversario Renzo Lopiccolo Rimane un avversario di tutto rispetto È in un campo molto difficile Che secondo me penalizza anche la squadra di casa Noi abbiamo avuto l'occasione di giocare già la partita di andata Non è un caso appunto che anche la stessa Renzo Lopiccolo Dentro casa ha fatto pochi punti È un campo che comunque penalizza anche loro Che partita si aspetta in casa loro? Difficile come quella di sabato scorso Una squadra che subisce pochi golli Quindi ben quadrata Siamo alla testa di ritorno mi sembra Quindi se una squadra ancora alla testa di ritorno Ha una delle migliori difese Comunque non è un frutto del caso Al suo fianco Possete dire che degli allievi della Panorbus Lei è il bastone E al suo fianco c'è la carota Sì sì Siamo che Il Greg fa uno di quei ruoli importanti Copre un ruolo importante all'interno di questa squadra Con quello del prof Che si cura naturalmente della parte atletica Che intanto è quello di sopportarmi Poi quello di supportarmi La carota perché comunque Sono abbastanza esigente Con i ragazzi L'età è quella che è Quindi la perballosità è loro forte Il mio carattere è quello che è Devo dire che lui si è fatto subito benvolere dai ragazzi È quello che riesce subito a mettere A posto quel piccolo sclesso Che magari viene fuori tra me e i ragazzi Parliamo di bastone e di carota Com'è lavorare con il mister Cintura? Intanto io ringrazio la Panorbus E ringrazio soprattutto il mister Per questa opportunità che mi ha dato È un'opportunità importante Si sta facendo la giusta esperienza Si conosce anche il calcio a certi livelli Perché comunque Il livello allievi regionali È un livello dove si comincia a giocare bene a calcio E soprattutto si comincia anche a conoscere il calcio Sotto tanti aspetti Non soltanto l'aspetto che siamo abituati a guardare in televisione Ma anche l'aspetto relativo alla gestione di un gruppo Che non è molto semplice Io quest'anno svolgo un ruolo di intermediario Di tramite tra l'allenatore e la squadra Questo mi ha portato a dover instaurare con i ragazzi Un rapporto innanzitutto di fiducia E soprattutto anche un rapporto Cioè sono come anche un termometro della squadra Da un punto di vista Non soltanto valutare l'aspetto condizionale Fisico dei ragazzi Ma soprattutto anche quell'aspetto psicologico Che è molto importante ai fini di una partita Diciamo quindi che Lavorare con dei ragazzi Che iniziano già in campionati regionali L'agonismo diciamo che Regna sovrano Bisogna lavorare molto sulla testa di questi giovani È fondamentale È una cosa che all'inizio non mi aspettavo Ma comunque cominciando a lavorare È un aspetto fondamentale Direi quasi al pari dell'aspetto tecnico Dell'aspetto anche fisico L'aspetto mentale è molto importante Soprattutto una cosa che vedo come lavora bene il mister Cintura È sull'intensità Cioè ogni esercizio Ogni allenamento Si lavora molto sull'intensità Evitare al massimo quelle pause Dico bene Quelle pause che in partita si possono verificare Soprattutto su questo aspetto mentale Che è difficile lavorare Direttore Nuccio Questo finale settimana Per gli allievi Mancata partita Visto il rinvio della sfida Con l'Accademia Trapani Forse c'è il rammarico Visto che la squadra veniva da tre risultati utili consecutive E due vittorie di fila Sì c'è il rammarico Perché la squadra sta passando un buon periodo Soprattutto abbiamo cominciato Per il piede giusto il giorno di ritorno Ma questa è una cosa che noi ci aspettavamo Perché dopo i tre o quattro mesi di lavoro Con un gruppo nuovo Ci aspettavamo che si cominci a vedere qualche risultato E credo che il mister D'Angelo Con tutto lo staff Sta facendo veramente un ottimo lavoro Perché abbiamo visto grossi miglioramenti nei ragazzi Settimana prossima ci sarà una sfida contro l'Alba Alcamo Che questa settimana ha pareggiato contro la Vis Palermo Secondo lei che partita sarà Potrà dare ancora seguito a questa striscia di risultati utili? Ma deve dare Perché i ragazzi stanno bene Mancando la partita di sabato Diciamo che il rammarico c'è Perché potevano continuare Quella striscia positiva Di risultati Però Già da ieri hanno cominciato a lavorare Pensando a A questi incontri che vengono Che per cercare di arrivare Più in alto in classifica Si deve cercare di vincere Perciò Credo che i ragazzi sono Adesso più convinti Di fare anche i risultati E cercare di giocare anche bene a calcio Comunque già Il girone di ritorno è nel vivo Sono iniziati già da diverse giornate Siamo nel girone di ritorno Il Monreale è in linea Comunque agli obiettivi Che si era prefissato a inizio stagione Secondo me Per quello che noi Abbiamo creato la squadra Anche all'ultimo momento Stiamo facendo qualcosa in più Perciò Siamo Diciamo Diciamo Nelle aspettative Siamo molto contenti E soddisfatti del lavoro Del lavoro fatto Però a questo punto Non ci dobbiamo fermare Possiamo Possiamo fare ancora di più Possiamo arrivare Nelle 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 primi tre posti Mi auguro che Ci possiamo entrare anche noi Tanto da settore giovanile Oltre che dagli allievi Dei risultati positivi Arriva anche la notizia Di Andrea Randazzo In prova All'Atalanta Questo può essere Soltanto motivo D'orgoglio per voi Sì Questo è un ragazzo Che conosco Da diversi anni È che Un ragazzo Che è cresciuto moltissimo Abbiamo avuto questa possibilità Di Un osservatore dell'Atalanta L'ha visto giocare Ce l'ha chiesto E ora Per tre giorni È stato lì a Bergamo Si sta allenando Per noi È un motivo di soddisfazione Mandare un ragazzo A fare Già solo gli allenamenti Con l'Atalanta Ma in più A dicembre abbiamo avuto Anche la La soddisfazione Di cedere un ragazzo Degli allievi Calandra Al Siracusa Nei professionisti Perciò diciamo che Noi negli allievi Ci è mancato Un giocatore importante Nel reparto difensivo E diciamo La squadra Si sta adeguando Molto bene Però la soddisfazione Di dare la possibilità A un ragazzo Di giocare In professionisti È molto importante Infine Risultati positivi Arrivano anche Dalla prima squadra Tanti giovani Ci sono anche lì Questa fine settimana È arrivato un successo Abbastanza largo Contro il Bolognetta Sì La squadra Stava giocando bene Lasciando stare La penultima giornata Contro il Ganci Che non abbiamo fatto Una buona gara Ha fatto sempre Quasi sempre Buone gare Non riuscivamo A finalizzare Le tante occasioni Che questa squadra Riesce a creare Però L'obiettivo È quello Di arrivare Di superare I punti Dell'anno scorso E arrivare Il più in alto possibile Allora L'ultimo fine settimana Avete pareggiato Per due a due Ad Alcamo Se non sbaglio Giusto? Sì Che far fine è stata? È stata una partita Molto maschia In un campo piccolo Tra l'altro Era un bell'impianto Nel base sintetica Però molto piccolo Una scuola Alcamo Ben messa in campo Una partita Molto maschia È giocata Poca a calcio Ma Si è lottato molto È stato comunque Alla fine Vi soddista O vi aspettavate Magari qualcosa In più? Ma L'Alcamo veniva Da due Convinte consecutive Ma secondo me È una buona Scuolata Perché io l'ho vista Bene Ed è un punto Importante È molto importante Anche che smuola Un po' la classifica Perciò Bene o male Siamo contenti L'importante Era non perdere Ecco Un punto importante Con questo pareggio Agganciato All'Accademia Trapani In classifica Quota 13 Quali sono Adesso le aspettative Per le prossime Giornate Di fare Più punti Possibili E sempre uscire Da sotto Ora Sabato abbiamo La Panormus Che è una sfida Importante E difficile Ecco Forse La Panormus Visto comunque Che la Panormus Mi mise in cintura Ha pareggiato Con il dilabato Nell'ultimo fine settimana Forse Magari sarà Una sfida Più difficile Perché loro Come voi Un po' Comunque Avrete voglia Di rivalza Sarà Sarà una partita Molto difficile Ovviamente Che loro Vengono Dalla Convitta E dal Pareggio E penso Che come Sia loro Che noi Vogliamo Fare punti Perciò Penso Che sarà Una partita Bella E sempre Difficile Perché la Panormus Lo sappiamo È una buona scuola A presidere Comunque Parlando invece Del girone Proprio in generale Possiamo dire Che forse Dei gironi Di allievi Nel palermitano Questo è senza dubbio Il più equilibrato Sì Venendo gli altri Questo è Molto equilibrato Perché sia sotto Che sopra Ci leviamo Chi uno Chi due Non c'è questa cosa Questa grande differenza Sia dalla prima Alla quinta Che dalla sesta Fino alla quattro Ancora Non c'è niente Di scontato Sia da parte La classifica Da parte di sopra Che di sotto Ancora è tutto Molto equilibrato E può succedere di tutto E passiamo adesso Al girone B Sempre degli allievi Regionali Animosa Corleone Profi Carazzi 1 a 1 Paceco Montepellegrino 3 a 0 Tommaso Natale TF 0 a 0 Nerazzurra Borgo Nuovo 1 a 0 Ciccio Galeoto Folgore Selinunte 1 a 2 Turno di riposo Per il calcio Sicilia Per una classifica Che vede in testa Saldamente al comando Il calcio Sicilia Con 36 punti Segue la profi Carazzi con 26 22 punti Per la coppia TF Tommaso Natale 20 punti Per la Ciccio Galeoto 18 per Folgore Selinunte Animosa Corleone 16 per il Paceco 13 punti Per la Nerazzurra 6 per il Borgo Nuovo Chiude Fanalino di coda Con 0 punti Il Monte Pellegrino Misterlo Giudice L'abbiamo anticipato poco fa Questo girone È dominato dal calcio Sicilia Se fosse lei Il tecnico Di questi ragazzi Fosse al posto Di mister Di Fiore Che stimoli darebbe Per arrivare A fine campiato Perché comunque Con 10 punti di vantaggio Diciamo che il calcio Sicilia Difficilmente perderà La vetta Di questo girone Sì sicuramente Però secondo me I ragazzi A questa età Non hanno bisogno Di così tanti stimoli Soprattutto se giochi In una grande società Come il calcio Sicilia Dove magari Si viene richiesto Sempre il massimo E allora Secondo me Anche il lavoro Del tecnico È tra virgolette Facilitato Perché vai ad allenare Comunque ragazzi Che hanno sempre fame Di risultati Perché è proprio L'ambiente Che te lo impone Magari c'è forse La paura Magari di sottovalutare Magari qualche avversario Considerando la forza Del calcio Sicilia Questo sì Questo sì Però ripeto Secondo me I valori Che ha il calcio Sicilia In rosa Sono Totalmente Di valore E quindi Difficilmente Potranno cadere In In questo Tra virgolette Fallimento Se non dovessero arrivare Appunto La vittoria Del campionato Presidente Invece La notizia Sicuramente Di questi giorni È la separazione Tra il calcio Sicilia E il direttore sportivo Buongiorno Secondo lei Senza Buongiorno Con una figura del genere Quanto perde Il calcio Sicilia? Allora Premesso Che Io non credo Assolutamente Che Il calcio Sicilia Da questo punto di vista Subirà Delle battute Al resto Perché Sapranno Certamente Come Sopperire A questa Grande assenza Di Carmelo Buongiorno Il quale Non credo Che perderà Tanto tempo A trovare Nuove sistemazioni Perché Lui stesso Ha dato tanto A calcio Sicilia Così come Ha ricevuto Tanto È una figura Così Sicuramente Tornerà Presto A far parte Di questo ambiente Pramo di calcio Sicilia Quindi andiamo Ad ascoltare Le parole Delle prof Sucameli Degli allievi Regionali Del calcio Sicilia È così Sembra quasi Che le altre squadre Ci vogliono dare una mano Chiaramente Non è così Non abbiamo bisogno Che nessuno ci dia una mano A noi è servita Questa settimana Chiaramente Per Per fare una programmazione Diversa Rispetto a quando Abbiamo una partita Di campionato Ne abbiamo approfittato Abbiamo lavorato In una prospettiva Sia imminente Delle partite Di campionato Sia futura Visto Che la situazione Che si sta venendo a creare Ci proietta Per andare a A fare qualcosa Che noi speravamo E che abbiamo programmato Fino ad oggi Ancora comunque Ci sono diverse giornate Di campionato Da affrontare Il vantaggio Diciamo che Dieci punti Sono un vantaggio Importante Forse In arrivare A fine stagione Servirà Qualcosa in più Qualche motivazione Che spinge Comunque i ragazzi Oppure Vengono da sé Naturalmente Allora Chiaramente I punti di vantaggio Sono parecchi Le partite Ancora sono tante Per cui potrebbe capitare L'imponderabile Rispetto a quello Mi chiedeva Noi stiamo cominciando A programmare Qualcosa di diverso E più sostanzioso Per farci trovare pronto Nelle partite Che saranno importanti Per quello Che verrà Settimana prossima La nera azzurra Che partita si aspetta Devo essere sincero Mi aspetto Una squadra Chiaramente agguerrita E' chiaro Che oggi Chi incontra noi Avrà Tutte le motivazioni Una Per le motivazioni Proprie Per il campionato Proprio E due Perché sicuramente Affronteranno La prima della classe E quindi Vorranno mettersi In evidenza Vorranno fare bene Ed è chiaro Che chiunque Proverà In tutti i modi A fermarci A batterci E archiviati i due Gironi di allievi Regionali Passiamo ai giovanissimi Regionali Girone A Stelladoriente Cei 2 a 2 Buon Pastore Ciccio Galeotto 3 a 3 Sport Marsala Paceco 0 a 1 Tommaso Natale TF 3 a 1 Rinviata alla sfida Tra città di Trapani E l'Alba Alcamo Per una classifica Che vede in testa Il Buon Pastore Con 35 punti Segue il Tommaso Natale Con 34 TF 24 punti Alba Alcamo 22 19 punti Per città di Trapani Ecei 12 punti Per il Paceco 11 per la Stella D'Oriente 10 per lo Sporting Pallavicino 8 punti Per la Ciccio Galeotto E 4 per la Sport Marsala Mister Questo girone Senza dubbio Il girone Il risultato Più sorprendente Magari in questo turno È il pareggio Del Buon Pastore Che sembrava Un treno in corsa E alla fine Ha pareggiato in casa Contro la penultima In classifica Sì Diciamo che anche Il Buon Pastore Sta dimostrando Di essere una Buonissima realtà Sappiamo che Essere una Succursale Del Calcio Sicilia In questo appunto È Tra virgolette Favorita In quanto La mole di ragazzi Che passano In questa società È ovviamente Maggiore rispetto A quelli che passano In altre società C'è da dire sì Che è una sorpresa Questo pareggio Per 3 a 3 Dove magari Appunto Come dicevi Tu Pocanzi La mancanza Di ulteriori stimoli Magari ha potuto Incidere Sotto questo punto di vista Presidente Diciamo che Oltre a voi Voi e il Buon Pastore Si possono definire Le due sorprese Di questa stagione Sì Anche se Dietro a queste sorprese C'è Tanto Ma tanto lavoro Secondo me Certi risultati Non Si determinano così Per caso Quindi Il Buon Pastore È un'ottima compagine Lo sta dimostrando In questo giro C'è questo bel testa a testa Con il Tommaso Natale Diciamo Una mezza battuta a vuoto Ci può pure stare Nell'arco di un campionato Magari Come dicevamo Pocanzi Si è abbassato Un attimino La motivazione Ma sono certo Che presto riprenderà La sua marcia Per quanto riguarda noi Il lavoro che c'è dietro Sta dando I suoi frutti Fermo restando Che potrei Sembrare ripetitivo Potrei risultare Monotono Ma Noi il primo approccio A questo campionato L'abbiamo avuto Quest'anno L'obiettivo ancora oggi Rimane quello Di Conservare la categoria E fino alla fine Fin quando Non raggiungeremo La matematica certezza Insomma rimarrà tale Secondo lei Definire il terzo tempo Ancora una sorpresa È riduttivo O già la possiamo definire Una realtà Che si sta consolidando Per consolidare Una realtà Ci vuole veramente Tanto Nel senso che Il lavoro Che viene svolto Viene svolto In maniera meticolosa Il problema Non è arrivare su Il problema È restarci E adesso Ci prendiamo Un attimo di pausa Restate qui con noi Passa a team Ricevi un omaggio Direttamente Presso i nostri Punti vendita Negozi team Spicuzza Ti aspettano a Palermo Nei punti vendita Di via Orsa Minore 123 E via Notar Bartolo 3 barra G Calcio e sport Forniture sportive Calzature Abbigliamento fitness Idea Regalo Kit Calcio e calcetto È tutto per il tempo libero Corso fino a chiaro aprile Numero 180 A Palermo Il telefono è il 389 05 44 261 O lo 091 651 6529 Seguici su Facebook Calcio e sport La Dynamic Sport Center È un'oasi di fitness e benessere Situata nel quartiere Noce a Palermo Dynamic Sport Center Si erge su una superficie Di oltre 500 metri quadri È composta da una sala attrezzi Con macchinari di ultima generazione Per un allenamento ottimale Una sala per i corsi fitness di ballo E una sala tatami Dedicata alle arti marziali Tutti i nostri istruttori Sono altamente qualificati Alla Dynamic Sport Center Potrete trovare numerosi corsi Per tutte le tipologie di allenamento E per tutte le tappi E per tutte le tappi Oltre ai noti corsi fitness Quali Pilates Zumba Total Body Metabolic Training TRX È la novità dell'anno È la novità dell'anno Il divertentissimo Kangoo Vari sono i corsi dedicati ai bambini Come la danza moderna L'hip hop Il jiu jitsu E la kickboxing Per chi vuole imparare a ballare Divertendosi Consigliatissimo il nostro corso di balli di gruppo Il nostro fiore all'occhiello Sono le arti marziali Da noi Potrai trovare corsi di MMA Kickboxing Jiu jitsu Difesa personale E la grande novità di quest'anno Il wrestling Dynamic Sport Center Via Tommaso Aversa 145 a Palermo Il telefono è lo 091 22 58 32 Oppure il 366 360 3538 E riprendiamo il nostro appuntamento settimanale Con il calciogiovanile.com Parlando del girone B Dei giovanissimi regionali Vispalermo Garibaldina 1 a 0 Città di Carini Animosacorleone 1 a 2 Dattilo Noir Renzo Lopiccolo 3 a 1 Fincantieri Cantera Ribolla 4 a 1 Trapani Calcio Panormus 1 a 1 Terzo tempo Accademia Trapani 5 a 1 Per una classia che vede in testa La Panormus con 33 punti Segue la Fincantieri con 28 27 punte per il Dattilo Noir 26 per il Trapani Calcio 23 per il terzo tempo 21 per la Renzo Lopiccolo 16 punti per la coppia Vispalermo Animosacorleone 13 per la Cantera Ribolla 12 per la Garibaldina 8 punti per il Città di Carini Chiude la classia con 4 punti L'Accademia Trapani Misterlo Giudice Quest'ultimo fine settimana È arrivato un successo largo Che conferma comunque Il vostro ottimo momento di forma 5 a 1 all'Accademia Trapani Seconda vittoria consecutiva Terzo risultato utile Sì, siamo in un buon momento di forma Frutto anche del lavoro Che abbiamo svolto Durante la pausa invernale Dove devo fare un applauso ai ragazzi Perché anche con quelle temperature rigide Sappiamo in quei giorni C'è stata anche la neve Non abbiamo saltato un solo allenamento Eravamo sempre tutti presenti E questo ringrazio nuovamente i ragazzi E anche le loro famiglie E secondo me questo si è visto in campo Dove abbiamo raccolto un buon bottino di punti E ci stiamo avvicinando a quello che è l'obiettivo Che anche il Presidente ha detto Ovvero quello della salvezza Ormai credo manca davvero poco Presidente parlavamo di salvezza Con 23 punti E comunque già un ampio margine Sulle zone basse Possiamo dirlo che già la salvezza È per gran parte acquisita E magari si può iniziare a sognare qualcosa in più Allora, nel momento in cui Raggiungeremo la matematica certezza Ricontrolleremo, riguarderemo la classifica E poi eventualmente Si potrà parlare di altro Al momento viviamo la giornata Cercando di raggiungere prima possibile Quello che è l'obiettivo dichiarato Ad inizio stagione C'è da dire anche comunque Che questo vostro girone Possiamo definirlo il più equilibrato E tra l'altro Si stanno affermando in realtà del Trapanese Il Trapani Calcio è una società professionistica Quindi magari non è una sorpresa Vederlo là sopra Il Dattilo comunque sta facendo abbastanza bene anche Sì, a me ha fatto un'ottima impressione Così come un'ottima impressione Mi hanno fatto sia la Panornos Che la Fincantieri Credo che le prime tre Sono lì davanti E sono lì davanti Con merito E ritengo che Questa lotta Fino alla fine Andrà avanti Per stabilire Chi delle tre sarà Prima Seconda E terza Mister Il presidente parlava della Panornos Voi avete adesso la cantera di bolla Poi ci sarà lo scontro con la Panornos Se dovesse arrivare con un risultato positivo Presentarsi alla sfida con la Panornos Dopo un risultato positivo Magari questo scontro diretto Può rappresentare una svolta per la stagione Beh, sinceramente non lo so Pensiamo noi per il momento soltanto al cantera ribolla Che togliendo le ultime due partite Era in netta ripresa Ha avuto una battuta d'arresto proprio nelle ultime due gare Dove però ha giocato col Trapani Che ricordiamo è una società professionista Quindi noi per il momento ci concentriamo E siamo concentrati solo sulla ribolla Poi comunque è chiaro che se vinci con il ribolla Arrivi alla sfida con la Panornos Con una marcia in più Giocare in casa loro comunque può rappresentare una trappola Per quanto riguarda il ribolla Sì, siamo fuori casa Però comunque noi siamo abituati al campione sintetico Perché noi giochiamo a Santa Flavia Quindi sostanzialmente il problema campo non si pone Siamo fuori casa però a livello di campionati giovanili Dentro caso fuori casa a mio avviso non cambia granché E adesso andiamo ad ascoltare le voci di Flavio Pilitteri Direttore sportivo della Vis Palermo E di Lorenzo Muzio della Panornos Siamo soddisfatti perché come dicevi Abbiamo ottenuto un buon pareggio in casa dell'Alba Alcamo Un avversario ostico I ragazzi vengono da tre risultati utili consecutivi Tre pareggi Sicuramente speriamo di invertire il trend con una vittoria Che da tanto manca Però comunque siamo soddisfatti per lo spirito dei ragazzi Mentre come hai detto prima tu La partita di giovanissime abbiamo vinto Una vittoria per 1-0 È stata una partita abbastanza combattuta Ha giocato su un campo abbastanza pesante È una partita risolta su un calcio di punizione Comunque i ragazzi hanno creato diverse occasioni E hanno rischiato poco e nulla Parlando dei giornalisti Sì è un buon bottino proprio per il motivo che hai detto tu prima Perché comunque è una squadra che sabato è scesa in campo con 7-2003 Quindi comunque sia con più di mezza squadra di sotto età Quindi si sta cercando di fare un lavoro in prospettiva per il prossimo anno Siamo soddisfatti perché il mister sta trasmettendo tutti i suoi insegnamenti ai ragazzi I ragazzi stanno recependo abbastanza bene Sono sicuro che le soddisfazioni da qui a fine anno non mancheranno Perché alla prossima c'è una sfida che sulla carta Visto comunque la situazione dell'Accademia Trapani Viene favoriti e magari può essere un'occasione ghiotta per continuare questa striscia di vittoria Sì andremo a giocare con i nostri giovanissimi contro l'Accademia Trapani Speriamo di continuare questo trend positivo Ovviamente possiamo avere al momento i risultati di pronostico Però sicuramente non è mai facile andare a giocare sempre nel Trapanese Quindi ci auguriamo di fare una buona prestazione e perché no magari vincere Sulla carta invece è più difficile la sfida degli allievi che incontreranno la Panormus Sì è una sfida abbastanza interessante La Panormus è una buona squadra Speriamo bene anche lì ovviamente I nostri ragazzi ce la metteranno tutta per cercare di portare a casa il risultato Ma per quanto riguarda i giovanissimi sono comunque abbastanza soddisfatto Perché proprio per il fatto che dicevamo prima siamo con 7-2003 Quindi con parecchi sottetà e siamo parecchio soddisfatti Per gli allievi non sono soddisfatto perché siamo stati parecchio sfortunati Perché comunque sia siamo una squadra che non subisce tanto Però ahimè segniamo poco E spesso e volentieri siamo stati penalizzati Quindi non sono soddisfatto agli allievi per questo punto di vista Però sono sicuro che i risultati non mancheranno e arriveranno al più presto Mister Rino è un amico e mi ha lasciato una patata bollente Però anche molto soddisfacente Perché i ragazzi sono veramente fantastici Sul punto di vista tecnico, mentale, comportamentale È un gruppo veramente eccezionale Non me l'aspettavo però si può lavorare veramente bene Ho questa opportunità a 20 anni E sono veramente onorato perché ritengo la Panormus Al top delle scuole calcio in tutta la regione Quindi faccio un grosso in bocca al lupo a Rino E prendo volentieri questa sfida Per l'ultimo fine settimana avete pareggiato per una a una a Trapani Un pareggio è arrivato in extremis Sì è un pareggio è arrivato in extremis Però la partita l'abbiamo ampiamente dominata È stata una partita bellissima perché il Trapani gioca veramente bene Gioca palla a terra, scambi rapidi sul corto Sono una squadra veramente fatta bene Però noi non siamo stati da meno Abbiamo retto benissimo il campo C'era un tempo che non permetteva Però i ragazzi hanno dato una grande risposta sul piano del gioco Ci è mancato qualche spunto l'aravanti Però poi alla fine penso che il gol in extremis di Marino Abbia reso giustizia alla prestazione della squadra Che è stata veramente di livello La Fincantieri intanto vincendo con la cantera di Bolla Si è riavvicinato Settimana prossima c'è questo scontro direi Diciamo che diventa a questo punto fondamentale Forse vincere per evitare il ritorno di fiamma della Fincantieri Certo vincere conta sempre Che sia la Fincantieri o qualunque altra squadra La sfida di lunedì sicuramente è una sfida di valet doppio Perché la Fincantieri sta facendo un ottimo campionato E ci insidia per questo primato Però noi siamo la panormus e non possiamo permetterci cali di concentrazione E di passare secondo in classifica Noi dobbiamo restare sempre là sopra E cercare di puntare sempre più in alto E di costruire qualcosa soprattutto per le fasi finali ad aprile Diciamo che dopo te comunque che hai preso in mano adesso la squadra Questo girone di giovanissimi forse si evidenzia un po' per i tecnici giovani C'è anche Totolo Giudice nel stesso tempo Diciamo che magari per il futuro anche puntare su tecnici giovani Nei settori giovanili può essere una speranza Una cosa positiva Sicuramente Io penso che al di là dell'età Vadano osservate le qualità Le qualità di una persona Che sono appunto indipendenti dall'età Uno può avere anche vent'anni Però avere la personalità La testa e le competenze per guidare una squadra Che sia regionale o provinciale Per cui mi auguro che sicuramente Il mio esempio Quello di il mister Lo Giudice Siano appunto esempi Che poi altre scuole calcio Vedranno e cercheranno di riportare anche nel loro territorio E chiudiamo il nostro appuntamento settimanale Parlando del girone C dei giovanissimi regionali Caltanissetta Calcio Santa Sofia Calcio 3 a 3 San Cataldese Sport Missa 4 a 0 Profi Carazzi Real Gela 2 a 2 Favara Academy Calcio Sicilia 0 a 1 Città di Palermo Bagheria 5 a 0 Villa Bate Don Carlo Misilmeri 4 a 1 Per una classia che vede in testa il Città di Palermo Con 39 punti Segue il calcio Sicilia con 37 Real Gela 27 punti Favara Academy 26 Santa Sofia Calcio 21 22 punti scusate per 19 punti per Profi Carazzi e Villa Bate 16 punti per la Fortitudo Bagheria 9 punti per la Sport Missa 8 punti per il Don Carlo Misilmeri 6 per la San Cataldese Chiude la classifica il Caltanissetta Calcio Con 4 punti Mister Lo Giudice Parlavamo poco fa il vostro giro è più equilibrato Qui c'è il Città di Palermo Comunque parliamo di una società professionistica Lì c'è sempre il calcio Sicilia Eh sì, sono le due che stanno Tra virgolette ammazzando questo campionato Hanno praticamente forse vinto quasi tutte le partite Tranne qualche pareggio forse E quindi dimostrano ancora una volta Di essere lì non per Per un caso ma per meriti Forse magari in questo girone la sorpresa Presidente possiamo definirla La Favara Academy Sì, li abbiamo incontrati anche con altre categorie E devo dire che anche a me stanno facendo un'ottima impressione Si stanno ben comportando in tutti i campionati Che stanno affrontando In questo girone poi abbiamo il Palermo E la notizia è fresca Un vostro ex testerato Fradella che adesso è al Palermo È stato convocato dalla nazionale Under 16 Questo può soltanto essere motivo d'orgoglio per voi Ma la notizia a noi è arrivata Anche se non parlare È arrivata ieri pomeriggio Diciamo l'ufficialità di Antonello Fradella Chiamato nell'Under 16 E nazionale da mister Zoratto E chiaramente È una grandissima soddisfazione Per tutto l'ambiente terzo tempo Un ragazzo che è stato con noi Successivamente è passato al Palermo Frutto di un lavoro programmatico Un lavoro meticoloso Diciamo, noi ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie Quindi diciamo che la strada intrapresa dal terzo tempo È quella giusta, possiamo dirlo Noi abbiamo un progetto preciso Una programmazione che ha un filo conduttore Dai piccoli amici agli allievi Questo fa sì che ogni categoria in tutte le squadre Ci sia la possibilità veramente di grande crescita Da parte di questi ragazzi Ringraziamo il presidente fortunato Ciluffo E il mister Totolo Giudice Per essere stati qui con noi Grazie a voi E con questo si chiude la nostra Quattordicesima puntata Del calciogiovanile.com Per restare aggiornati C'è sempre il nostro sito Il calciogiovanile.com C'è la nostra pagina Facebook E il nostro canale YouTube Dove potrete rivedere tutti i contributi Di questa puntata Da Giovanni Mazzola Un buon proseguimento Grazie a tutti